Il Consigliere Bartolo è segno di modernità politica, quella che il Consigliere Bartolo ha pensato, sottraendo tempo a proprio lavoro, di portare come costituto all'interno della condizione. Cioè, il Consigliere Bartolo ha espresso quella condizione a un concetto semplice. Anziché insegnare fede inutili, vogliamo, al di là degli appartenenti, al di là delle maggiorate delle opposizioni, a decidere che un ducelo di priorità alle quali il Consiglio Comunale potrà destinare democchio, fede, di borsa, di borsa, di borsa. Il somma è veramente che per tutti, noi, come noi diciamo che, per il suo peifico nel questo occhio, e nel contatto di Soprindisi, che ha pensato un poco in tempo, ovvero, abbiamo bisogno di che, come lui, gli otheroni è un suo lavoro. E grazie a chi è il gruppo.